Ciao a tutti tifosi e tifose, benvenuti in questo nuovo video, domani giocheremo Parma-Cosenza, un turno di fra settimanale i turni fra settimanali sono sempre un po' particolari, un po' strani, speriamo che non sia così domani in più che le statistiche che ho letto che tipo il Cosenza in casa nostra non ha mai vinto l'arbitro che avremo domani è tra l'altro l'arbitro di Pisa-Parma, quello che aveva regalato quel rigore scandaloso al Pisa quindi non è proprio il massimo, ma comunque ci abbiamo perso solo una volta, tra l'altro contro la Cremonese allenata da Pecchia a me è quello che spaventa un po' di più, mi fa grattare un pochino più le balle, diciamo così oltre al fatto che continuo a leggere il Parma non perde in casa da un anno, da un anno, da un anno quindi tocchiamoci tutto quello che c'è da toccare, ma un'altra cosa è più che altro Tutino, il grande ex della partita è vero che giocava in un Parma bruttissimo il primo anno, brutto la prima parte e mezzo del campionato dell'anno scorso e lui giocava poco e giocava anche fuori ruolo quando giocava però non è che dimostrava tantissimo, c'è da dire che non è facile giocare fuori ruolo però alla lunga qualcosina, almeno provare a dimostrare dovevi diciamo che comunque è un attaccante che ha segnato di più sempre di Bonny l'anno in cui ha fatto schifo, il primo anno di Serie B, ha fatto comunque 5 gol, se non ricordo male quindi un bottino discreto forse l'errore è stato più che altro enorme aspettative che forse l'ambiente aveva io non avevo tante sinceramente perché bastava guardare le statistiche, cose che molti non fanno ha fatto una stagione super con la tagliarne tale e poi poco altro diciamo che il Cosenza secondo me è la sua dimensione dove può esprimersi al meglio dove ha poca pressione, magari può fare qualcosa di più e quindi sappiamo un po' che gli ex quando giocano contro di noi diventano dei vichinghi ho un po' paura dell'atteggiamento che avrà Tutino nella prossima partita, cioè domani però un mantra che ripeterò spesso in questi video qua è che il Parma è il periodo decisivo il Parma deve vincere, cosa che non ha fatto per scelta dell'allenatore e forse anche della squadra stessa il pareggio contro il Como, anche se sbagliate le modalità, lo posso capire il pareggio con il Cosenza no comunque sarà difficile, il Parma contro il Cosenza è sempre faticato in questi due anni a parte la vittoria ai tempi di Achini dove Berdabè fece vedere per la prima volta le sue qualità mi ricordo una sconfitta in casa sempre l'anno scorso con Pecchia l'andata mi ha fatto uno 0-0 molto difficile per l'espulsione nei 9 o 6 minuti quindi non è una squadra da sottovalutare la cosa che mi spaventa sono sempre i cambi che farà l'allenatore alcuni sono giustificati perché Mann non avevo capito si è fatto male, comunque ha avuto un fastidio, un problemino quindi non so se ci sta, forse probabilmente non rischiarlo domani o giocherà a parte P, lo Becci c'è mai nella vita perché tanto è come se non esistesse e Steves è squalificato, potrebbe giocare o SOM lì anche se spero di no al SOM dell'ultima partita forse finalmente potremmo vedere Cyprian titolare in difesa ho molta paura che cercate di possa riposare indipendentemente chi gioca stare vanno al momento decisivo forse ci siamo già dentro quindi chiunque gioca deve dimostrare la voglia di portare a casa il risultato e l'obiettivo finale saluto, al prossimo video, ciao